Presentata una terza offerta per acquisire la Yokohama di Ortona, la prima ditta che si era presentata assicurerebbe il lavoro a 30 persone, la seconda a 50, la terza dovrebbe assumere più personale di quello impiegato attualmente. Una nuova speranza per gli 84 lavoratori che rischiano di perdere il posto. Intanto il sindacato Will si riunisce a Pescara per fare il punto sulla crisi economica causata dal Covid, ma anche su queste vertenze preesistenti alla pandemia, come quelle delle delocalizzazioni, chiedendo che sia l'Europa a impedire alle multinazionali di fuggire dove più conviene. Noi ci trasciniamo dietro una serie di vertenze che sono precedenti al Covid, che sono la punta di un asberg, di un malessere che era già presente nella nostra regione. Noi abbiamo vertenze importanti aperte nell'industria, la Betafence, la Yokohama, l'Inns dell'Aquila, le stesse realtà della Val di Sangro che soffrono. Abbiamo realtà anche del settore del commercio che hanno vertenze aperte, penso all'Austian, al Mercatone 1. Quindi c'è indubbiamente una regione economica che soffre, che soffre anche prima del Covid, che il Covid ha ulteriormente accelerato nella crisi e aggravato. E quindi c'è bisogno di interventi di natura straordinaria. Noi abbiamo chiesto al Governo e abbiamo chiesto anche all'Europa di intervenire con una seria politica fiscale europea per evitare le delocalizzazioni. Troppo spesso aziende che vengono in Italia, prendono i contributi, poi portano alla loro sede in altri paesi europei per pagare meno tasse. Se questo non è più accettabile è necessario che la comunità europea intervenga e riesca a trovare un sistema per omologare i trattamenti fiscali.